Allora, video che tira le somme, anche se le somme non ci sono da tirare di quest'anno di Emmentaler, o di Emmental, che dir si voglia, che voglia si dire, vabbè dai, andiamo a vedere questo cazzo di video, dai, sigla! La condizione di crimine Bondi, motas, motas, bondi! Allora, anno di merda, veramente. Sono qua, nella mia casupola, solo soletto, fuori piove, tempo di merda, fa freddo, giornata classica uggiosa del milanese, fra un po' esco e vado a prendermi qualcosina al McDonald's qua sul giro alle fogliotesti. Cosa posso dirvi quest'anno? Non hanno effettivamente di merda sotto tutti i punti di vista. Non si batte un chiodo, da un punto di vista economico, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista vita e in generale. Il problema del Covid non porta solo ed unicamente un problema economico, ed è già tanto, non ci mancherebbe, ed è già un problemone. Ma si porta dietro anche tutto uno strascico di menate di tipo psicologiche, per mille e uno motivi. In più, nel mio caso specifico, ho avuto anche la fortuna di concludere un rapporto, non per volontà mia, con la mia compagna, del quale ero e sono ancora piuttosto preso. Bisogna usare il termine innamorato, purtroppo, perché alla mia età si può ancora. E quindi da questo punto di vista, cioè da tutti i punti di vista, una merdaccia unica. La disamina che voglio fare, senza stare troppo a piangermi addosso, che non mi piace, non mi piace la pietà degli altri, non mi piace stare lì a ammenare il torrone su un argomento così delicato, ma così incasinato, vorrei soffermarmi su un punto specifico, cioè sul fatto che la gente che sta bene economicamente non si rende conto di quelli che non hanno le loro stesse possibilità di quanto possono stare male in una situazione del genere. Mi spiego un po' meglio, cerchiamo di capirci meglio. Andiamo un po' per categorie. Brutto, sembra ghettizzare, ma funziona così. Categoria dei politici, la quale non comprendo, non do scusanti, è una categoria di merda, lo dico senza timor di smentita, perché guadagnano degli stipendi che secondo me non sono proporzionati al valore di ciò che la persona porta al tavolo, mettiamola così. I contenuti di un politico di solito sono scarni, sono deficitari, sono inconcludenti, non c'è dietro, nella maggior parte dei casi, non c'è dietro spessore politico, spessore culturale, volontà di fare le cose, tutta una serie di cose, di situazioni che vanno a mancare nelle politiche, pure guadagnano delle cifre stratosferiche, veramente di livello. Quindi è una categoria che terrei a parte perché la schifo a prescindere. La schifo a prescindere. No, la devo fare questa classificazione, no? Perché è importante. Poi c'è la categoria dei professionisti, cioè quelli che sono lì per quelli che vale, per coloro che vale questo discorso, per i quali possa valere questo discorso, la meritocrazia. Perché anche lì c'è dietro la politica, tanti occupano dei posti da professionisti, ma in realtà, a tattire da raddittati, sapete cosa voglio dire? Parliamo dei veri professionisti, quelli che occupano una sedia, occupano una posizione, i grandi primari, i grandi baroni della medicina, i grandi avvocati, dove occupano un posto, guadagnano tanto, però portano al tavolo dei contenuti, sia per spessore culturale, ideologico, personale, etico, morale, tutta una serie di menate, per le quali è giusto che loro guadagnino queste cifre, quantomeno se lo meritano. Ecco, entrambe le categorie devono comprendere una cosa, però. Poi mi direte voi nei commenti se concordate con me. Se ci sarà qualche professionista che guadagna tanto, probabilmente non sarà molto d'accordo. Per guadagnare tanto, non intendo i 2.000, 2.500 euro che sono uno stipendio della madonna, però, voglio dire, un farmacista, un camionista di un certo livello, ci può arrivare, no? Anche uno che lavora, con tutti rispetto al Carrefour, può arrivare a cifre vicino a quel tipo di stipendio, 1.800, 2.000 euro, non sto parlando fino ai 2.500, 3.000, non sto parlando di quelli. Sto parlando di stipendi che partono dai 5.000 in poi al mese. O di introiti, se non di stipendi, o di introiti, per chi lavora in proprio, per chi, insomma, è un professionista che lavora in proprio, insomma, che vanno su oltre i 2.500, 3.000 euro al mese. Quindi è gente che guadagna un netto, parlo, eh, che ti metti in sacoccia puliti. Gente che guadagna 5.000, 10.000, 20.000 euro al mese. Ci sono persone così. Ecco, entrambe le categorie, in poche parole, che se lo meritino, professionisti per meritocrazia, o che non se lo meritino, no, meritino, i professionisti non per meritocrazia ed i politici. E entrambi le categorie devono comprendere che chi non ha le loro entrate ha un modo di valutare, di vedere la vita differente. Cioè, sono due categorie che non si possono comprendere. L'operaio, per capirci, cerco di generalizzare, mettere un po' tutto insieme, però per operaio intendo tutti quelli che guadagnano sotto delle cifre che poco anzi ho citato, no? E invece il professionista, o comunque colui o coloro che guadagnano parecchi soldi. Non c'è intesa. E' inutile che vengono a menare il torrone, no, perché insomma dobbiamo fare le cose in un certo modo, perché il sacrificio... Eh, dirò una frase un po' forte, con tutto il rispetto per le persone di orientamento sessuale differente dall'etero, è la classica battuta. Comodo fare i froci con il culo degli altri. Mi seguite nel ragionamento. Comodo, mettiamola così che è un po' più delicata. Comodo fare i brillanti al bar col portafoglio degli altri. Offro io, pago, no? Cioè, ti offro da bere, però poi paga un altro. No, pago, scusate. Offro da bere, però poi chi paga è un altro, no? Cioè, stessa cosa per il discorso prima che ho fatto poco fa. Quindi, in funzione di questo, è inutile che vengono a fare i ragionamenti, ci vengono a dire a noi, in primis i politici, che dobbiamo dare il buon esempio, che dobbiamo usare il buon senso. Quando uno come Conte, che non ce l'ho con lui nell'età, però viene a dire a inizio pandemia, mi ricordo, siamo tutti sulla stessa barca. No, non è vero. Non siamo tutti sulla stessa barca. Che cazzo stai dicendo? Tu con i tuoi 80.000 euro che guadagni all'anno, quello che al mese, adesso non mi ricordo, comunque parliamo di stipendi di un certo livello, perché anche se uno guadagnasse 80.000 euro l'anno, comunque al mese sono un po' di sordini. Se pensate che l'operaio medio, netto, in tasca, quanto si mette? Così può mettere netto in tasca l'operaio medio. 15.000, scusate, compresa la tredicesima, sto facendo dei calcoli un pochettino così, approssimati. Ed è tutto lì il ragionamento. Cioè queste persone devono comprendere che non possono parlare così. Non è possibile. Perché al di là del fatto che l'operaio si faccia il culo, non se lo fa, ma anche con fronte ai pensionati. No, cioè, come cazzo fai a dire che siamo sulla stessa barca? Che dobbiamo tutti comportarci in un determinato modo, perché dobbiamo essere consapevoli, consci e attivare il buon senso. No, amico mio, perché tu quando vai a casa non hai nessun problema di pagare la bolletta, di pagare la domestica che hai, perché ce l'hai, il maggiordomo o l'autista o qualche, ce l'hai, che poi lo paghi tu, lo paga il governo, lo paga un cazzo che te frega. Ma ce l'hai. Quindi non venite a farmi questo ragionamento, perché a noi, poveri Cristi, senza fare la vittima, per carità, però, poveri Cristi, confronta loro, ci girano anche i coglioni. Questo è il ragionamento che voglio fare. Non esiste. Tu non mi puoi venire a dire tanto siamo tutti sulla stessa barca. Con il cazzo siamo tutti sulla stessa barca. Perché faccio degli esempi banali, stupidi, idioti, cretini, deficienti. Se a me mi capita un problema qualsiasi, mi si rompe la lavatrice e sono in un mese in cui sono in crisi. Cazzo, quei soldi per pagarmela non ce li ho. O se ce li ho, devo privarmi di tante cose. Mi spiego? Sono riuscito a spiegare il ragionamento che voglio portare. Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo? Non siete d'accordo? La pensate così anche voi. Attenzione, non sto dicendo che chi merita, non sono invidioso, non è che erosico, ma sto dicendo che chi merita dovrebbe darmi una parte, perché ci sono tanti che ragionano così. No, ma siccome lui guadagni più, perché non me ne dà un po' a me? Che cazzo vuol dire? Ma vattene guadagnare i soldi? Che cazzo ragionamento è? Sapete quanti ne conosco che ragionano così? Se uno se li merita quei soldi, è giusto che li guadagni. Per tutti gli altri no, ma di fatto per una categoria o l'altra, entrambe le categorie non possono capire le categorie come le nostre. Cioè le persone che non entrano, che non gli entrano quei soldi in casa, in saccoccia, mettetela come volete. Questa è una realtà. Anche colui che prende 2000 euro di pensione o di stipendio, non è uno che sta bene. Non è così. Sì, sopravvive un po' più decentemente di chi prende 800 euro di stipendio al mese. Sicuramente vive meglio con fronte alla... Ma non è che si arricchisce. Oggi prendere 2000 euro al mese è un sogno per molti, ma comunque non diventi ricco. E invece sta gente che prende 4, 5, e 6, guardate i politici, 10.000 euro al mese e poi hanno magari anche il coraggio di lamentarsi. Ve la ricordate quell'altra comunista, la Picerno, credo, non mi ricordo bene, che fece la spesa con 80 euro alla settimana e diceva che due persone possono mangiare tranquillamente e andava a fare la spesa a comprare il sedano, l'insalata. Che cazzo fai? Vividi sedano, l'insalata e carote e mais e barbabietole. Come cazzo fai? Cioè, se vuoi mangiarti un pezzettino di carne, non puoi. Cioè, ma stiamo scherzando. Se poi ti vuoi togliere un vizio del tipo voglio andare al cinema con tutta la famiglia, ci vogliono 100 euro. Poi, uno dice, vado al film più sclauso, non vado in 3D, ma in 4, se vuoi mangiare due caramelle, due patatine e i biglietti per tutti, poco a poco che ti va via sono 40-50 euro. Se ti lasci un po' andare la mano, comincia a vedere il 3D, comincia a comprare una Coca-Cola al cinema, bicocca, che non stiamo parlando in centro, costa 3,80 euro. Moltiplica per 4, madre, padre e due figli. 3,80 euro una Coca-Cola. La confezione di popcorn più piccola che c'è al cinema, infatti io quel cazzo che faccio così? Io cosa faccio? Le caramelline le prendo sotto a Odd Store, che costano un cazzo. La Coca-Cola pure, bella, fredda, perché poi non ti fanno entrare con la Coca-Cola se la prendi da un'altra parte, su al cinema, in Big Cocker Center, sapete, il cinema che ha 18 sale, no? Sapevate sta regola qua? Quando tu vai, scusate, digressione, e la voglio portare, quando vai a quei cinema lì, non ti fanno entrare col mangiare o col bere se non l'hai preso da loro. Con la scusante che se poi stai male loro non rispondono e quindi non si prendono la responsabilità. Quindi devi prendere da mangiare solo da loro, perché se poi stai male ti rispondono da un punto di vista responsabilitativo e nel caso ti pagano. Cioè, questa è la loro scusante. Sapete cosa faccio io? Prendo il popcorn lì da loro, perché è l'unica cosa che prendo lì da loro, perché sono belli caldi. A 5 ore a confezione ci mangiamo in 3 se non in 4, ok? Perché è piccolo, però giustamente ce n'è. Le Coca-Cola le prendo a 1,50 euro sotto da Odostore. Le caramelle, 2 euro invece che 8 euro a prenderle lì sfuse. Avete capito? Cioè, ma vi sembra possibile? Cioè, tu fai un piano, vai sotto, la Coca-Cola costa 1,50 euro, la stessa, in bottiglia, uguale, da mezzo litro. Vai su da loro, costa 3,80 euro. Te la imboschi, non la fai vedere, perché non è che ti fanno la perquisa quando entri al cinema, voglio dire, no? E andate a fare in culo. Vabbè, è uno sfogo, anno di merda. Che cazzo vi devo dire? Stavolta mi beccate un video un po' di merda, direi. Ma, così. Sono un po' a terra e avevo voglia di fare un po' di di polemica sulla vita in generale. Sarete lotti coglioni? Mi dispiace. Oh, comunque, buon anno a tutti ragazzi, eh? Buon anno, sincero, e speriamo che sia un anno un po' migliore. È vero che chi vive sperando muore caccando? Che cazzo vi devo dire? Bye.